Speriamo di non ascoltarlo mai, l'IT Alert. Allora, perché potrebbe suonare? Lo stiamo leggendo. Praticismo infinito, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Allora, colleghiamoci subito, proprio direttamente dai campi di Flegrei, dove in collegamento c'è Carlo Doglioni, presidente dell'INGV. Buongiorno, benvenuto a Uno Mattina. Allora, stiamo parlando, l'abbiamo sentito, stamattina la sentivo anche al TG1 Mattina, dove si diceva anche ovviamente la preoccupazione, tutti voi degli INGV siete lì. Che cosa ci dobbiamo aspettare? E soprattutto con i vostri studi, sappiamo benissimo che non possiamo sapere il momento preciso in cui semmai dovesse accadere qualcosa. Però c'è un lavoro comunque dietro su questo? Il lavoro dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia è veramente incessante e poi in occasione di questa crisi che stiamo tutti vivendo, si è intensificato ulteriormente tutta l'analisi geochimica dei gas che vengono emessi dal sottosuolo. Noi ovviamente monitoriamo ogni secondo la sismicità dell'area. Chiaramente stiamo vivendo qualcosa che abbiamo già vissuto tra l'82 e l'84, quando ci furono circa 5.000 eventi sismici il suolo si alzò di quasi due metri, poco meno, e quindi c'è un'attenzione estremamente elevata. Attualmente il suolo si sta innalzando a un centimetro e mezzo al mese. C'è quindi un acuirsi di questa vitalità del vulcano, che può esaurirsi nulla come può evolvere in qualcosa che è tipico appunto dei vulcani, come una piccola eruzione. Piccola nel senso che il volume che noi stiamo misurando di sollevamento del suolo dà dei valori che sono relativamente piccoli. Questo non significa che ci sarà un'eruzione, al momento non lo possiamo assolutamente dire. Possiamo però sapere che la sismicità sta aumentando e ancora non ne vediamo la fine. Presidente, ma proprio in questo caso specifico potrebbero essere due gli scenari. Cioè il primo, quello che stavo dicendo, quindi un'esplosione, quindi proprio come se fosse da vulcano. Invece l'altro è un terremoto. Attualmente il problema sono i terremoti, perché l'energia viene rilasciata a livello molto superficiale e quindi pur essendo terremoti di magnitudo relativamente leggera, il più forte è stato magnitudo 4.2, anche nel 1982-84 ci fu una sequenza che ebbe come culmine un magnitudo di energia simile. Quindi il problema adesso sono i terremoti, perché sono superficiali e quindi generano uno scuotimento del suolo maggiore e quindi di conseguenza anche per gli edifici un affaticamento continuo nel corso di questi ultimi mesi, anni, per non parlare appunto di quanto già sofferto nell'82-84. Allora, ci ha raggiunto il studio Stefano Cianciotta, buongiorno, esperto nella gestione degli eventi di crisi. Allora, professore Cianciotta, da più di parti si sollecita proprio un piano di emergenza e di evocazione. I modelli storici ovviamente hanno studiato e prevedono lo spostamento di oltre 500.000 persone. Se si dovesse allargare l'area addirittura si arriverebbe a 800.000 persone. Che cosa sta facendo proprio per velocizzare, agevolare e far capire anche a tutti i cittadini proprio lì nella zona? Negli ultimi anni in Italia, soprattutto dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, c'è stata un'attenzione molto forte verso i piani di prevenzione e verso anche la qualificazione di una consapevolezza dei cittadini. Perché l'Italia, come sanno molto bene i telespettatori, è stata sempre molto preparata nella gestione successiva all'emergenza. Il sistema di protezione civile è uno dei sistemi più importanti al mondo. Non a caso quando accadono calamità in altre parti del globo, il sistema italiano arriva sempre per primo perché ovviamente ha un'expertise significativa. Da l'Aquila in poi il sistema intero della pubblica amministrazione ha preso cognizione non solo con la formalità dei documenti, perché qui non dobbiamo limitarci alla consistenza i documenti formali. Il piano di evacuazione c'è, anche in questo caso. È stato revisionato l'ultima volta nel 2019. I comuni hanno chiesto un'ulteriore revisione insieme con la Regione. Il tema è principale e quanta consapevolezza hanno i cittadini di quello che devono fare. È arrivato proprio al dunque. Le persone, i cittadini, sanno quello che devono fare? Le faccio un esempio. Quando si insediò il primo governo di Obama, quindi parliamo di alcuni anni fa, Obama disse che la sua più grande scommessa sarebbe stata quella di creare una popolazione resiliente e cominciò a fare dei corsi di formazione per agevolare la consapevolezza nelle persone che vivevano nelle due coste. L'uragano Sandy, che molti ricorderanno, è stato uno dei presupposti che ha misurato la capacità di resilienza dei cittadini. Ecco, ma lì invece, a Napoli, bisognerebbe fare molta più attività. La risposta è che dalla formalità del documento oggi bisognerebbe fare molta più attività. Se lo fanno le scuole... Io arrivo lì al dunque, nel senso che non vorrei poi ristar qui a raccontare quello che lei stava dicendo, che siamo bravissimi nel dopo. Sapendolo dobbiamo intervenire prima, quindi dobbiamo... Sono tante persone, perché certamente stiamo parlando di mezzo milione, oltre mezzo milione, però dobbiamo intervenire perché, ad esempio, arriva l'IT alert, la persona che è a casa sa quello che deve fare se deve scendere, se deve prendere l'automobile, in quale direzione deve andare, se verso nord, verso sud, verso mare. Consideri, per esempio, i target che vanno valutati, perché un'evacuazione in un'area del genere richiede almeno 72 ore. Penso, per esempio, a tutto il sistema delle persone fragili o dei disabili che probabilmente hanno necessità di un ulteriore ausilio. Da questo punto di vista, in Italia, soprattutto nelle aree che negli ultimi anni sono state colpite dalla calamità, io parlo dell'Abruzzo perché è un'area che conosco molto bene, dove la Regione, ad esempio, ha investito su un'agenzia specifica per la protezione civile, questo tipo di attività viene fatto in modo continuativo. Cerchiamo di farlo, veramente, non aspettiamo. Presidente, torno da lei, per chiederle, ma ovviamente lei ha detto che questa è una situazione da allerta gialla, monitorate, è tutto sotto controllo, nel caso in cui doveste vedere qualcosa di anomalo, proprio in queste ore, in queste giornate, che cosa farete? Beh, prima di tutto, convocheremo l'unità di crisi interna, l'Ingv, e questo siamo, la viviamo ora per ora, questa situazione, anzi, minuto per minuto. La prossima settimana la Protezione Civile Nazionale ha convocato la Commissione Grandi Rischi, che si esprimerà, e come istituto daremo la massima collaborazione per cercare di trovare le soluzioni migliori per incrementare i dati che serviranno per poi prendere delle decisioni a livello politico, sociale. Attualmente vediamo appunto questa recrudescenza, questo innalzamento del suolo, ma soprattutto i nostri ricercatori stanno monitorando tutti i gas che vengono emessi, la variazione della sismicità, tutti i parametri che stanno avendo dei gradienti di variazione che possono indicare una modificazione del quadro attuale. Presidente, siamo in chiusura, le chiedo, c'è stato anche uno sciame nella zona di Viterbo, settimana scorsa anche ad Ancona, non sono legati, è vero? Nessuna correlazione qui ai Fregrei, stiamo parlando di un evento vulcanico, lì è la naturale attività tettonica e geodinamica dell'Appennino. No, perché molti se lo chiedevano e anche voci che circolano ovviamente sui social, è tutto sbagliato. Seguite il sito degli NGV per avere informazioni corrette. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi, ringraziamo Stefano Ciacciotta, quindi vi rispetto qui studio e mi raccomando in questa situazione così delicata ci sono tante persone che sono anche in ansia, quindi stiamo vicino veramente in modo armonioso a queste persone.